Un invito a riflettere seriamente sui gruppi WhatsApp di genitori ed alunni, limitandole nell'uso. A rivolgere questa richiesta a mamme e papà degli studenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado attraverso una circolare, è la preside dell'Istituto Comprensivo, Margaritone di Arezzo. Io nella mia circolare ho scritto che la comunicazione si avvale di fattori fondamentali che sono l'empatia, l'interazione emittente, il ricevitore, il contesto, parlandoci noi ci guardiamo in faccia. L'uso di WhatsApp invece esula da questi fattori della comunicazione, quindi ci possono essere dei frantendimenti, magari un'espressione detta in buona fede può essere letta in tutt'altro modo. I genitori come hanno preso questa circolare? Per ora positivamente, è un invito quindi semplicemente a parlarne, a collaborare, a riflettere. Io credo che l'uso di questo, insomma il sistema non, se si comincia ad andare nel personale o nella chiacchiera, ecco cioè se si imitasse l'uso a quello che dovrebbe essere. Comunicazioni scolastiche, diciamo messaggi del rappresentante, ecco. Questi ragazzi secondo me hanno bisogno di un controllo, i mezzi di internet, i mezzi di comunicazione, i mezzi di chat sono comodissimi, anche io li uso per lavoro. Bisognerebbe un attimino riflettere su cosa si scrive, però bisogna un po' anche educare all'uso di queste chat, sia i grandi che i piccoli, tutti e due.